Partiamo da una storia d'amore, bellissima, eterna, tra un santo, Francesco, e la Madonna. E per questo vi portiamo innanzitutto un po' lontano da Roma, Motta di Livenza, provincia di Treviso, in un santuario bellissimo, dove questa storia d'amore ha lasciato una traccia importante. Enrico Selleri, mi senti? Enrico? Sì, Lucia, ti sento, siamo arrivati qui a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, quella che vedete alle nostre spalle è la facciata del santuario della Madonna dei Miracoli, un'apparizione avvenuta qui il 9 marzo del 1510, Madonna dei Miracoli perché già dal giorno stesso un prodigio, tre giorni dopo il podestà del paese venne guarito da una lunga malattia cronica e da lì tantissime grazie che sono arrivate fino ai giorni nostri, testimoniate anche dalla grandissima galleria degli ex voto. Saremo qui tra pochissimo per raccontare l'apparizione e per capire anche che cosa lega la Madonna e il attuario che stiamo visitando all'ordine francescano, Maria e San Francesco, credo che sia un bel programma, a tra poco. È davvero questo, grazie Enrico, finalmente anche un pizzico di sole e noi qui in studio, un altro francescano, abbiamo bisogno, pare Massimo Fusarelli, parroco di San Francesco Fusarelli, pare Massimo grazie di essere ritornato da noi, pare Massimo anche chi non ha fede conosce l'amore di Francesco per Maria, le sue creazioni, chi vuole leggere come opera letteraria ovviamente non ne percepisce la fiamma della fede, ma questa storia d'amore quando è iniziata tra il poverello di Assisi e Maria. Difficile dire qual è il punto di inizio, io credo che Francesco abbia respirato l'amore a Maria sicuramente dalla mamma, dalla famiglia, da quella fede cristiana in cui lui è cresciuto, ma noi abbiamo le testimonianze, possiamo situare questo amore quando Francesco ormai è diventato frate Francesco e in alcuni scritti che lui ha lasciato sappiamo che Francesco che si definisce il letterato ha lasciato un corpo di scritti che ci sorprende e in questi scritti si depositano nei venti anni del suo cammino vocazionale alcune intuizioni e c'è Maria ed è interessante perché Francesco ci lascia traccia di Maria sempre in forma di preghiera, quindi questo testimonia che Francesco non ha pensato alla Madonna, ha avuto una relazione profonda con partiamo proprio dal cuore, posso essere proprio sentimentalmente, emotivamente, cosa ha rappresentato l'incrocio di sguardi tra Francesco e Maria? Quello che ci dice Tommaso D'Acelano e il suo biografo ufficiale. Certo, che dice Francesco nutriva un indicibile affetto per la Vergine Maria, perché? Perché aveva reso nostro fratello il Signore della gloria, quindi Francesco vede in Maria quel ponte che ha permesso al Signore che è altissimo di farsi piccolissimo, infinitamente piccolo come ha detto qualcuno e ce lo ha dato come fratello, ci ha permesso questa confidenza, ce lo ha reso accessibile, quindi per questo Francesco ama così Maria, il centro rimane Gesù e attraverso di lei che Gesù non solo è venuto a noi ma si è fatto nostro fratello, non possiamo averne paura. Ne percepiva le carezze, ne percepiva il calore, era una passione più cerebrale proprio perché madre di Cristo io ti amo. Mi dispiace essere così brutale. Francesco non è celebrale, non è nella sua stoffa, non è nella sua personalità, Francesco è profondamente affettivo nel senso più alto. Quale cappella sceglie come luogo privilegiato? La Porziuncola, cioè questo piccolo pezzo di terra dove Francesco diceva, ce lo dicono i suoi biografi, qui c'è una particolare presenza della Vergine Maria e per lui la Porziuncola, quella piccola chiesa che non ha nulla di architettonico, di artistico, rappresentava addirittura il corpo della Vergine, cioè la sua presenza in mezzo a noi che siamo la chiesa. Noi tra un po' ci andremo alla Porziuncola, io direi ci andiamo molto presto. La mia regia ha già capito tutto, che ho cambiato la scaletta. Eh sì, siamo fatti così. Se abbiamo... Alla Porziuncola ci sono andate Serena Cirillo e la nostra Antonella Venti. Andiamoci. Me l'hai servita così. Ave suo palazzo, ave sua tenda, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. Questa è la preghiera di Francesco alla Beata Vergine Maria. Il legame di Francesco con Maria penso che possa passare proprio da questa piccola cappella della Porziuncola intitolata A Santa Maria degli Angeli. Francesco amava la Porziuncola, ma penso che questo amore per la Porziuncola sia il riflesso di un amore più grande, l'amore per Maria. Francesco ha scritto molte preghiere, alcune dedicate alla Vergine Maria, e si rivolgeva a Maria, possiamo immaginarlo, dentro questa piccola chiesa, che prega la Madonna, rivolgendosi a lei con questo titolo, Madre del Signore. Francesco era innamorato di Maria e la pala, che è qui dietro alle mie spalle, ha come scena centrale l'annunciazione. E come Maria ha detto sì al progetto che Dio aveva scelto su di lei, che diventasse Madre del Signore, anche Francesco penso che qui dentro avrà detto il suo sì, sia nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di difficoltà più difficili del suo cammino. E Maria penso che sia stata per lui il modello più alto di questo sì, cioè dell'accettare, dell'accogliere la volontà di Dio sempre. Io mi chiamo Rosario, i miei confratelli mi ricordano attraverso il mio nome questo legame con Maria. E devo dire che nel mio cammino di consacrato e di sacerdote, sicuramente la relazione con Francesco passa attraverso la relazione di Maria. Mi piace immaginare Francesco qui che prega Maria, e dato che io vivo a Santa Maria degli Angeli, stare qui dentro e stare con Francesco e stare con la Vergine Maria. Bellissimo, grazie Antonella, grazie Serena. Padre Massimo, qualsiasi Maria, in che cosa si è tradotto nella vita di Francesco? Beh, si è tradotto sicuramente in una vita che si è spesa completamente. Francesco, come scrive ai frati in una lettera, dice «Non trattenete nulla per voi, perché colui che vi ha amato, Gesù Cristo, ha dato tutto per voi». E sicuramente Francesco univa, perché Francesco è un sintetico affettivo, mette insieme pezzi, elementi, volti, nomi diversi sul centro. Il centro per Francesco è sempre Gesù. Ed è in questo centro che Francesco rannoda tutto. Allora, non trattenete nulla per voi, perché nulla lui, Gesù, ha trattenuto per sé, ma ha dato tutto. E Maria è colei che con silenzio e discrezione, in fondo è stata non solo la via, non solo il mezzo, ma il luogo in cui Gesù ha dato tutto, ha dato se stesso. Quando tu parli di intuizioni teologiche espresse dal cuore, queste preghiere a Maria, queste rodi a Maria, sono davvero le preghiere di un innamorato, le parole di un innamorato. Qualche secolo dopo, soltanto adesso c'è una nuova festa, Maria, madre della Chiesa, come dire, qualche secolo dopo, la Chiesa ha dovuto anche riconoscere a San Francesco che ci aveva visto giusto. Che cosa, quel cuore innamorato di Maria, dove arriva? Ipotizzare cosa nei confronti della Madonna? Francesco scrive queste preghiere che prende dalla liturgia con cui lui prega, non fa composizioni del tutto autonome, però Francesco cosa fa? Addirittura con i salmi le reinterpreta, fa una parafrasi anche del Padre Nostro, così anche delle invocazioni a Maria. Noi ritroviamo alcune espressioni che Francesco usa in testi del suo tempo, liturgici, ma Francesco ci ha messo dentro il suo spirito. E allora Francesco chiama Maria innanzitutto madre di Dio, cioè ci ha reso vicino, prossimo, il figlio di Dio. Poi la chiama vergine fatta a Chiesa, che è un'espressione meravigliosa. Cioè Maria non è solo legata alla Chiesa in un modo morale, no, no, è la vergine fatta a Chiesa, in lei la Chiesa, cioè noi, siamo stati anticipati nel suo sì, nella sua disponibilità e anche nel suo dono totale. E ancora Francesco parla di Maria come figlia del Padre, madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo. Un termine audace questo, sposa dello Spirito Santo, che non tutti i teologi accettano. Allora io lo immagino, ancora adesso? Ancora adesso, sì. Perché? Perché indica un legame che ad alcuni sembra troppo stretto, troppo diretto. Teologicamente si può storcere il naso, ma Francesco non aveva l'interesse di fare un trattato teologico. Ha dato voce agli affetti del cuore e lo ha fatto in modo audace, perché chi ama è audace e anche Francesco lo è stato. Possiamo dire che avesse capito tutto di Maria? No, non credo, perché Maria ci porta il mistero del suo figlio. Se capissimo tutto avremmo finito. Quindi è un viaggio continuo. Ma Francesco è andato al centro e da lì credo anche noi, stando in quel centro, madre di Dio, perché ha reso nostro fratello il Signore della gloria, possiamo fare questa scoperta continua, che non finisce. Padre Massimo, proviamo a calarci un attimo nella realtà storica. Perché era così audace quel pensiero nei confronti di Maria in quei tempi? Maria, stiamo parlando del XIII secolo, come veniva vista? Cos'era? Francesco, nella sua preghiera che abbiamo ascoltato, la chiama Signora, Santa Regina. Quindi se noi vediamo anche le immagini della Vergine nelle cattedrali gotiche, romaniche, è una regina, possiamo dire un'imperatrice. Per certi versi poteva sembrare un po' lontana. Ma Francesco, da bravo cavaliere dell'amor cortese, ha questa venerazione, questo amore cortese veramente per Maria. Ecco, Maria poteva apparire lontana e per alcuni questa lontananza faceva buon gioco. Soprattutto chi non sopportava, ieri come oggi, come sempre, questa eccessiva vicinanza di Dio alla nostra carne. L'eresia dei cosiddetti catari, i puri, che tenevano Dio lontano dalla carne umana, era in questo discorso. E quindi, Maria che rende nostro fratello il Signore della gloria, come Dio non solo si avvicina, ma si mette dentro la nostra carne, Francesco vede Maria in questo modo e quindi in modo positivo, non contro qualcuno, dice Dio non solo non ha paura della nostra carne, ma ci si è mischiato. Come diceva Tertulliano nel secondo secolo, Dio non ha avuto orrore di mischiarsi al sangue di una donna nel suo grembo. Guardate, questa paura, mi sa che ancora oggi, questa resistenza, c'è tutt'oggi, attenzione, troppo scandaloso pensare che in quelle piaghe dell'uomo d'oggi ci sia Cristo. E poi Francesco ha avuto un rapporto con le donne che sarebbe tutto da approfondire, è stato approfondito da una parte negli scritti di prudenza, distanza, evitino incontri, contatti con donne, dice ai frati Francesco, ma poi di grande confidenza. Quando Francesco sta per morire si fa Chiara e poi Jacopo ha dei Sette Soli dove Francesco prima di morire le scrive porta miceri e i panni per la sepoltura e i mostaccioli, i dolcetti. Qua non si ha paura, non c'è paura, le distanze si annullano. Bellissima questa immagine, padre Massimo. Quindi Maria per Francesco non è una donna lontana. Vogliamo vedere quanto vicina poi rimane Maria alla vita di ciascuno di noi. Torniamo se il nostro Enrico Sellari è pronto a Motta di Livenza in questo santuario bellissimo, provincia di Treviso. Enrico. Che bello. Sì, eccoci sempre in diretta dal santuario Basilica Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. C'è con noi il rettore, custode e anche guardiano della comunità dei francescani minori qui di Motta di Livenza fra Marco Gallo. Intanto grazie per l'accoglienza. Pace e bene a tutti grazie a voi per aver pensato a questo santuario in Motta di Livenza santuario Basilica santuario mariano molto famoso frequentato non solo dal Veneto ma anche dal fuori del Veneto perché? Perché qui si ricorda un'apparizione avvenuta storicamente il 9 marzo 1510 c'è un processo canonico che lo ricorda e lo attesta. Noi ci troviamo fra Marco proprio nel luogo in cui il cigana questo signore dopo aver pregato a questo come tutte le mattine davanti a questo capitello ebbe l'apparizione. Che cosa successe quel giorno? Proprio così quella mattina il 9 marzo mentre sostava in preghiera davanti a questo capitello dove era solito recarsi tutte le mattine prima del lavoro dei campi vede una giovinetta bianco vestita che gli rivolge questo saluto buon di e buon anno uomo da ben Quindi già Madonna aveva capito che era un uomo pio uomo e che devotissimo ma lui non aveva capito subito che quella fosse la madre di Dio Non lo capì subito lo capì poco poco dopo comunque la Vergine lo invitò alla preghiera alla penitenza e a divulgare la notizia della sua apparizione alla gente di Motta e che qui sarebbe sorta una chiesa in signe dove sarebbero venute tante persone alla preghiera Il messaggio che la Madonna diede al Cigana se vogliamo sintetizzarlo è come si traduce ancora oggi in questo luogo? Beh si traduce principalmente nell'ascolto di tanta gente tanti pellegrini che qui accorrono accoglienza e dire anche riconciliazione tante persone vengono qui per riconciliarsi con il Signore con una storia personale attraverso il sacramento della confessione e noi come comunità francescana li accogliamo e ascoltiamo anche le loro croci i loro problemi L'apparizione avvenne a marzo del 1510 a tempo di record venne approvato il il miracolo l'apparizione e poi subito la costruzione dopo tre anni c'era già il santuario praticamente sì a tempo di record in soli tre anni ecco viene costruita viene eretta questa basilica bella solenne che richiama la progettazione del codussi nel veneziano e che custodisce ecco una sacra effigie intitolata la Madonna dei Miracoli molto amata dai mottenzi ma anche da tutto il Veneto allora intanto grazie Fra Marco per questo primo collegamento dal santuario della Madonna dei Miracoli qui a Motta di Livenza ci ritroviamo tra poco ci spostiamo all'interno del convento perché vogliamo capire perché proprio i francescani sono a custodire anche questo santuario mariano quindi a tra poco grazie Enrico grazie ai frati per l'accoglienza come sempre aspettiamo di vedere dentro che deve essere un altro incanto Pari Massimo nella rappresentazione di questa relazione tra la Madonna e San Francesco tantissime opere d'arte c'è sempre uno sguardo di direzza infinita il senso della maternità si traspare immediatamente traspare subito quanta forza regala Maria a un uomo che di tormenti ne ha avuto di sofferenze nella carne è l'uomo delle stimmate è l'uomo anche dei tormenti nelle relazioni familiari insomma rompe con la famiglia vieni creduto pazzo rompe con il padre con il padre prima hai ragione e non con la madre non abbiamo testimonianza diretta ma è chiaro dall'insieme delle fonti che Francesco ha avuto un profondo rapporto con la madre e nei testi ai frati Francesco non usa mai per le relazioni tra i frati il linguaggio paterno il superiore non è il padre dei frati Francesco dice i frati devono essere diventare madre uno dell'altro i frati che vivono nell'eremo due pregano due fanno da madri di quelli che si dedicano alla preghiera prendendosi cura di loro quindi Francesco ha avuto un profondo senso materno che non credo che fosse così scontato per un cavaliere per un cavaliere e per l'ideologia maschile del suo tempo dove lo ha maturato beh non ci vuole molta psicologia per capirlo sicuramente la relazione con la madre con sua madre donna pica questa donna di Provenza sposa appunto del padre di Francesco ma poi nel cammino della fede Francesco ha fatto sicuramente anche il suo salto insomma arricchendosi di questa vena naturale di cui disponeva ha trovato in Maria anche non solo un conforto ma ha trovato in Maria possiamo dirlo quel volto materno di Dio quel volto quel grembo che gli ha testimoniato una parte importantissima del mistero sai padre Massimo oggi queste cose a noi risultano più familiari certo pensiamo soltanto a quello che Francesco sta dicendo Papa Francesco siate non siate zitelle voi preti non siate anche voi conoscete esattamente provate a essere misericordiosi come una madre però per quei tempi erano cose quasi incomprensibili sì Francesco sicuramente anticipa i tempi oppure in fondo perché San Francesco ancora oggi ci affascina così perché la sua esperienza cristiana è proprio radicata dentro la sua umanità che è stata un'umanità che si è lasciata toccare ferire il giovane Francesco era tutto centrato su di sé e sulla sua vanagloria il passaggio attraverso l'incontro con il lebroso con gli altri è quello di una apertura proprio viscere di misericordia ha sperimentato Francesco e qui Francesco ha dato voce alla sua anima femminile che abbiamo tutti ma che la cultura ha per secoli ha diciamo concentrato sulle donne ma c'è un'anima femminile anche negli uomini Francesco ha dato voce a questa anima non solo all'animus e gli ha dato voce in un modo straordinario e questa saldatura tra umanità di Francesco e sua esperienza cristiana ce lo rende così attuale il punto è sempre lo stesso è l'incontro è la carne non c'è niente da fare se torniamo un minuto in pubblicità tornate qui abbiamo ancora tanto da raccontare con padre Massimo Fusarelli parroco di San Francesco a Ripa stiamo sfogliando delle immagini bellissime l'album d'amore e la storia tra San Francesco e la Madonna San Francesco che comprende di Maria cose che la teologia di allora stentava ad intuire padre Massimo fa di voi Francescani un popolo di innamorati di Maria senza una devozione senza scendere nel devozionismo perché i Francescani sono mariani? sono mariani perché guardano a Cristo e se guardano a Cristo non possono mettere da parte Maria guardano a Maria perché i Francescani guardando a Cristo lo trovano nella Chiesa nel Vangelo nell'Eucarestia nei poveri e in questa accoglienza c'è sempre la presenza di Maria quindi i Francescani non possono non essere mariani perché guardano a Cristo e guardano alla Chiesa e perché insieme a Francesco non dimentichiamolo mai c'è Chiara D'Assisi che è stata chiamata da Francesco stesso un'altra Maria ci dicono i biografi che Francesco guardava a Chiara come a un'altra Maria non come a una replica a una copia ma Chiara nella sua vita reclusa ma immensamente aperta portava dentro di sé quella dimensione mariana che Francesco trova in sé ma non può trovare solo in sé Francesco è un uomo ecco trova in Chiara e anche nell'incontro con Chiara per cui Maria è veramente dentro i francescani dopo Francesco hanno alimentato tantissimo la devozione mariana santuari luoghi per esempio promuovere la visione di Maria come la tutta santa l'immacolata in Francesco noi troviamo diciamo i semi di questa esplosione ecco di una devozione sana a Maria sana perché perché orienta lo sguardo a Cristo e questa è una precisazione che va a fare hai ragione torniamo ad un'altra la vostra presenza tra la gente dopo un'apparizione miracolosa l'abbiamo vista dopo un miracolo Motta di Livenza con il nostro Enrico Selle in provincia di Treviso Enrico eccoci sì eccoci sempre dal santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza sempre con il frate guardiano rettore e custode Fra Marco Gallo ci siamo spostati in quello che è chiamato il Chiostro di San Francesco un legame particolare quello dei Francescani con la Madonna che anche qui è avvenuto perché siete stati i primi ad essere chiamati per custodire e costruire questa chiesa questo legame così forte a partire dalle prime chiese restaurate da San Francesco una di quelle era Santa Maria degli Angeli continua questa devozione questa protezione proprio così la devozione per la Vergine Maria in San Francesco era molto forte ricordiamo appunto Santa Maria degli Angeli dove lì è avvenuto tutto per la vita di San Francesco e anche per noi francescani la devozione alla Vergine Maria è particolarmente profonda e lo dimostra questo santuario che da sempre noi francescani custodiamo e accogliamo i pellegrini provenienti da Venezia i primi francescani arrivarono qui e a tempo di record dopo la costruzione della chiesa si misero ad accogliere i numerosi pellegrini che qui arrivavano questo chiostro appunto denominato intitolato San Francesco anche perché ci sono delle lunette dipinte affrescate che raccontano la vita di San Francesco ma anche queste voliere con uccelli che ricordano questa vocazione francescana proprio così c'è un legame profondo la devozione alla Vergine Maria ma anche la natura e il chiamare fratelli e sorelle ogni creatura come desiderava San Francesco e nel bellissimo poema che lui ci ha lasciato il Cantico delle Creature sta testimoniare questa fraternità universale ogni essere vivente è amato e custodito dal Signore e Francesco l'ha voluto imprimere anche in quel bellissimo cantico per chiudere cosa significa per voi custodire un luogo come questo a 500 anni dall'apparizione significa inizialmente tendenzialmente la preghiera il contatto con Dio custodire il silenzio e anche custodire la vocazione la chiamata che il Signore ci ha fatto e che va custodita nel proprio cuore e condivisa con tanti fratelli fra Marco grazie per averci accolto in questa giornata e pace bene pace bene anche a voi grazie per il momento è tutto da Voto di Diversa a voi grazie Enrico grazie padre Marco un luogo in canteone ma voi siete sempre o meglio voi trasformate questi luoghi in una vera oasi un accenno alla preghiera la scuola di Maria si impara anche a pregare padre Massimo assolutamente sì Francesco la porziuncola amava passare lunghi periodi in preghiera è una preghiera quella di Francesco fatta di ascolto del Vangelo è interessante perché nei suoi scritti Francesco non dice mai come dice il Vangelo ma sempre dice il Signore dice il Signore Gesù chiaramente nel Vangelo quindi Francesco nel Vangelo ascolta la voce stessa di Gesù e questo è inscindibile questa voce questa carne di Gesù è possibile è stata resa possibile dalla Vergine Maria la dimensione della preghiera poi ha veramente un accento mariano in Francesco per esempio nello stupore immenso nella lode la preghiera di Francesco è anzitutto è un magnificat è un magnificat è lode di uno sguardo stupito e innamorato anche le preghiere a Maria sono così e questa è una dimensione mariana Maria nel magnificat loda benedice il Signore che ha fatto cose grandi in me neanche le può elencare le riconosce quindi e poi in Francesco la preghiera è la preghiera liturgica quella della Chiesa la mattina mezzogiorno la sera Francesco dopo il viaggio in Terra Santa quest'anno sono 800 anni riporta la preghiera dell'Angelus il saluto tre volte al giorno a Maria alcuni dicono colpito dalla continua ripetizione richiamo alla preghiera dei musulmani ha voluto che anche i cristiani lo facessero e questa triplice preghiera guarda caso è mariana ed è una devozione che i francescani hanno diffuso padre Massimo non so come ringraziarti lo sguardo di Maria si vede anche grazie di qua è innamorato di Maria non l'ha mai nascosto è il caso di dirlo è stato un grande musicista un compositore di cui noi ricordiamo soltanto alcune canzoni minoreitano ascoltiamo grazie padre Massimo grazie a tutti